E proprio per parlare delle conseguenze di questi nubi fragili è oggi il nostro ospite, l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Buongiorno, assessore. Buongiorno. Lei ieri è andato di persona a vedere come è la situazione nella provincia di Siena. Che cosa ha visto? Beh, ho visto una situazione critica, ho visto una macchina della protezione civile al lavoro, ho visto tanta dignità e tanto impegno da parte delle popolazioni, da parte degli amministratori, dei sindaci, degli operatori pubblici. Quindi tutti erano in movimento, diverse erano le infrastrutture danneggiate, alcune strade erano ancora chiuse quando sono arrivato, una di queste era la Cassia, poi attraverso un carrello che percorreva la ferrovia siamo andati anche a vedere l'interruzione della ferrovia che purtroppo è avvenuta nella località della stazione di Murlo, quindi dove un anno fa era stata riaperta e dove due anni fa era già stata lesionata. Per fortuna lì abbiamo visto che le opere civili hanno retto bene quelle che erano state realizzate un anno fa. Ovviamente la ferrovia ha fatto da tamponamento, quindi c'è stato lo scavalco da parte dell'acqua che ha portato via tutto il pietrisco, quindi andrà ricaricato. Oggi però ci sono i tecnici di RFI che stanno facendo tutte le verifiche. Se non ci sono lesioni, come ieri sembrava alle opere principali, a quel lenciamento armato, si tratta ovviamente di settimane di lavoro, però i danni non dovrebbero essere paragonabili a quelle dell'altra volta, così come sono in corso una serie di verifiche da parte degli strutturisti del Geno Civile su alcuni ponti. Bene. Assessore Ceccarelli, la Regione ora chiederà lo stato d'emergenza? Sì, la Regione chiederà lo stato d'emergenza e in atto la ricognizione presso i comuni per il rilevamento dei danni, perché la richiesta che deve partire dal Presidente Rossi deve essere corredata da una prima stima dei danni che appunto è in fase ricognitiva. Consessore Ceccarelli, quindi nonostante questa pausa, i lavori andranno avanti nel ritmo previsto? Sì, mi sembra che le parole dell'assessore Giorgetti siano da questo punto di vista confortanti, questo è importante perché noi abbiamo anche degli obblighi nei confronti dell'Unione Europea di una rendicontazione per non perdere quelli che sono i finanziamenti europei e credo che quest'opera sia strategica, fondamentale per la città, per la Toscana, soprattutto se la pensiamo anche in un'ottica di forte integrazione con il servizio su gomma che è in fase finale di gara e con il servizio su ferro, anche esso sarà oggetto di gara, ma soprattutto di un contratto ponte che già andrà comunque a migliorare gli aspetti anche di integrazione tra ferro, gomma, tranvia e anche dal punto di vista poi dell'integrazione dei titoli di viaggio. Quindi credo che siamo di fronte ad una opera veramente attesa e quindi l'invito da fare è che capiamo i disagi che sono molti, però dobbiamo anche pensare a ciò che avverrà dopo. Bene, grazie a Vincenzo Ceccarelli, Assessore regionale delle infrastrutture.